Un caro saluto amici del canale YouTube Qui Studio Voistadio da Gianluca Rossi, occupiamoci del mercato Inter. Sentiremo parlare di mercato Inter meno del mercato altrui, semplicemente per un fatto, perché l'Inter si è mossa con grandissimo anticipo, portando a casa Taremi e Zelinski, quindi l'Inter di fatto, scusate il gioco di parole, è già fatta con due alternative per ruolo a Simone Inzaghi. Non dimentichiamo anche Joseph Martinez, che in potenza dovrà essere un po' quello che Onana, quando era all'Inter, è stato per Andanovic, cioè piano piano si prepara a prendere il posto di Sommer, sempre che mantenga le attese, ovviamente a mio giudizio Sommer è in grado di fare non solo l'anno prossimo, ma anche l'anno dopo come titolare, però con tante partite il prossimo anno è necessario avere una certa profondità di rosa e quindi l'Inter ha deciso di mettere a disposizione di Simone Inzaghi per la mission che è confermarsi campione d'Italia, ha deciso insomma di mettere a disposizione di Simone Inzaghi il meglio possibile, due alternative per ruolo. Come dico sempre, non si ha ancora bene l'idea di come sarà la prossima stagione, sarà una stagione massacrante dove si giocherà ogni tre giorni per undici mesi con la rinnovata Champions League da ferragosto praticamente a metà luglio. Mi aspetto, ma questo non per l'Inter, per tutte le squadre, un incremento degli infortuni perché è inevitabile, finché i calendari continuano a farli gente che non ha mai giocato a pallone. Ogni volta ci sono medici, sportivi, preparatori, atletici che dicono a noi media lanciate un allarme, non è possibile fare calendari come questo il prossimo, ma restano inascoltati. Quindi l'Inter è già fatta, sarebbe più logico però dire quasi fatta, perché comunque è logico che con due mesi pieni di mercato davanti le opportunità, come ha spiegato Marotta al via del calcio mercato a Rimini, ma per certi versi ha lasciato intendere anche Abusilio, non possiamo escludere nulla, non solo in uscita, ma anche in entrata. In uscita per la prima volta, questo è il pensiero corrente di questi giorni, l'Inter potrebbe non dover fare sacrifici importanti e guardate che è tanta roba, se veramente si verificherà. Io ci crederò il primo settembre a mercato chiuso, perché è prima che ci possa essere ancora qualche offerta di quelle irrinunciabili, non possiamo escluderlo. Sappiamo benissimo che Thuram è scattata proprio dal primo luglio, la clausola di 85 milioni, è un giocatore che piace al Paris Saint Germain, è chiaro che se ti mettono lì veramente gli 85 milioni della clausa e se lui decide di andarci al Paris Saint Germain e non vedo perché dovrebbe eventualmente decidere di non andarci, una plusvalenza piena come questa obbligherebbe l'Inter a cercarsi un altro attaccante. A proposito di attaccanti, si parla molto di Albert Gudmundson, che non interessa solo all'Inter, interessa a un sacco di società, però devo dire che Abusilio ha frenato molto anche sulla partenza di Arnautovic. Ci sta che in questo momento possa frenare, perché è chiaro che l'eventuale arrivo di Gudmundson dovrebbe prevedere la cessione di Arnautovic. Vogliamo dirla tutta? Ci sono un po' di perplessità sull'islandese per una situazione sua personale nella quale non entro perché non ne so nulla di ambito penale in Islanda. Certo, il suo avvocato dice che è tutto a posto, c'è un'accusa di stupro, no ma è tutto a posto, Albert è innocente, tranquillo, però ragazzi qui in Italia ovviamente tutte le società vogliono vederci chiaro. Quindi dire Gudmundson sostituirà Arnautovic lo possiamo dire perché la stima per Gudmundson è conclamata, ma al momento Arnautovic resta un giocatore dell'Inter e ha sottolineato, devo dire più volte, ausilio anche l'importanza di questo giocatore al di là del campo nello spogliatoio. Quindi non diamo assolutamente, per probabile al momento, che la quarta punta dell'Inter possa essere Gudmundson. Discorso Valentin Carboni. Zanetti dalla Coppa America dove Capitano Lautaro a livello di gol sta facendo sfracelli, sapete che Valentin Carboni è naturalmente uno dei convocati nella Nazionale di Scaloni, ha detto chiaramente che perlomeno all'inizio, quando scatterà il raduno il 13 luglio, Valentin Carboni tornerà all'Inter. Ci resterà difficile, anche perché immaginare Valentin Carboni come quarta punta, Valentin Carboni non è realmente una punta, è più un centrogambista offensivo, forse anche tatticamente non sarebbe il giocatore giusto, senza contare che il ragazzo comincia ad avere una valutazione, perlomeno l'Inter chiede 30 milioni per cederlo e anche Valentin Carboni, proprio perché Nazionale Argentino vuole giocare. So già che qualcuno protesterà, ma poi sono gli stessi che avevamo visto trasformarsi improvvisamente parenti di Cesare Casadei, vi ricordate che è stata una grande cessione invece operata dall'Inter, che soprattutto ha permesso in bilancio di avere poi i soldi per fare altre operazioni per creare quella instant team, che ragazzi ridendo e scherzando ha portato a casa sette trofei in tre anni solari, fate voi, se li ha portati a casa in zaghi. Quindi bisogna essere molto prudenti nella dotazione, non innamorarsi a tutti i costi del giovane da inserire in rosa, perché poi chi vince, e lo ha dimostrato l'Inter, notoriamente vince con i giocatori di esperienza, poiché sia giusto fare un cocktail con i giovani, vedete Buchanan, Bissek, ci sta. Ma è logico che ci sono dei giocatori che se si potessero prendere potrebbero essere molto utili, cioè sto pensando a Mats Hummels che va bene a 35 anni ma ha una tale esperienza europea, per cui qualche rumor di mercato attorno a Hummels dal mio punto di vista sarei assolutamente favorevole, ma per il momento l'Inter resta questo. Fermo restando che le suggestioni di mercato ci possono sempre essere, perché comunque 5 giocatori se ne sono andati, Audero, Quadrado, Klassen, Sanchez e Sensi, che non sono stati particolarmente utili in questa stagione, anche se devo dire che Klassen, lo ha raccontato Massimiliano Farris, ha avuto una sua utilità, allenandosi in un modo lui con 400 presenze all'Ajax e oltre 100 gol, da ispirare poi tutti gli altri che volevano un posto in squadra a seguirlo negli allenamenti. Quindi credetemi, quando ci sono delle squadre che vanno così bene, dove regolarmente il presidente Marotta parla di senso, di appartenenza, dove tutti dicono siamo una famiglia, bisogna stare attento anche a toccare delle rotelle che apparentemente da fuori, per chi magari i giocatori li ha visti solo in televisione o in fotografia e non ha mai assistito ad un allenamento, bisogna stare molto attenti a farsi prendere da questo senso, del nuovo a tutti i costi. A questo proposito c'è anche il discorso di Denzel Dunfriss, perché siamo partiti con l'europeo che Denzel Dunfriss era fermo nella sua richiesta di 5 milioni e mezzo, esagerata, mentre l'Inter era disposto ad allungargli il contratto arrivando al massimo a 4 milioni dei due e mezzo che attualmente Dunfriss prende. Bene, le ultime notizie ci portano a dire che l'entourage di Dunfriss, ma anche lui si è espresso, sarebbero ora intenzionati a rinnovare il contratto con l'Inter e io posso dirvi, indipendentemente da quello che potrà fare Dunfriss da qui in avanti con la sua nazionale, non sono assolutamente ostile alla permanenza di Denzel Dunfriss, che ha i suoi difetti, che certamente non è Hakimi, ma poi per cederne uno bisogna trovarne un altro e non è che ti va sempre bene, non è che trovi sempre Di Marco al posto di Persic, a Cervi il luogo di Bremer e Pavaro Darmian al posto di Skriniar, quindi bisogna sempre stare molto attenti per non parlare insomma della cessione di Lukaku o di Dzeko e dell'arrivo straordinario di Turan, bisogna essere molto molto prudenti in questa ansia assurda di voler rinnovare la propria squadra, soprattutto se è una squadra che ha ottenuto dei risultati straordinari come lo scudetto della seconda stella con distacchi abissali sulle inseguitrici, quindi riassumendo l'Inter è fatta, quasi fatta, perché giustamente con due mesi di mercato opportunità, suggestioni non solo in uscita ma anche in entrata ci possono sempre essere, iscrivetevi al canale Youtube di cui studio Voi Stadio, cari amici e un saluto da Gianluca Rossi a tutti voi.